Sindaco di Berardo le nostre aree interne sono sempre alle prese con qualche problema di viabilità e il caso ancora una volta a Cermignano per la strada provinciale 36 è chiusa. Sì oramai sono circa quattro mesi che la strada è chiusa e crea naturalmente notevoli disagi per la cittadinanza non solo per i residenti del comune di Cermignano anche perché in quella zona afferisce la frazione di Saputelli e di Poggio delle Rose ma diciamo che è un'arteria importante anche per i comuni della Valfino. Io più volte mi sono confrontato e ho chiamato sia il dirigente della provincia così come il presidente Diego di Buonaventura. Abbiamo avuto rassicurazione in un primo momento quindi si parlava di riapertura entro il 3-4 giugno e ad oggi invece vediamo che la strada ancora permane e rimane chiusa. Ma i lavori li stanno facendo? Allora i lavori, le ultime notizie si parla di fine luglio quindi riapertura di fine luglio però vedo che i lavori non sono continui ma a volte l'impresa c'è a volte no. Quindi io chiedo, faccio un appello affinché questa situazione di stallo si sblocchi ma soprattutto di trovare una soluzione. La soluzione ci sarebbe quello di creare un senso unico alternato in modo di dare la possibilità a tutti di evitare questo disagio, un enorme disagio per i nostri cittadini.